Osanna al figlio di Gavi, osanna al Redentor, onore e lode e gloria al Padre e al figlio, che allo figlio canto nei secoli sarà. Osanna al figlio di Gavi, osanna al Redentor, osanna al figlio di Gavi, osanna al Redentor. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è perlupio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della paresma. Gesù entra in Gerusalemme per dare sentimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella Città Santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo, Dio omnipotente ed eterno, benedici questi rami e concedi a noi, Tuoi fedeli, che accompagniamo soltanto il Cristo, nostro Re e il Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il Suo Spirito dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te. Stiamo assistendo a un rito animista che in Sicilia si festeggia da otto secoli prima dell'avvento del cristianesimo. Oggi in questa piazza di Messina, una città ripostruita, dopo il terremoto del 1908, assistiamo a un rito che ha 2800 anni. In Sicilia si festeggia questa data da 28 secoli e le varie religioni sono impossessate. Oggi in questa piazza il cristianesimo della chiesa romana del Vaticano ha organizzato questa bella manifestazione con tanto di poi scout e palme di ulire.